quali sono le caratteristiche del corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica del dipartimento di ingegneria civile meccanica dell'università degli studi di cassino e del lazio meridionale bene diciamo innanzitutto quali sono allora gli obiettivi formativi che un tale corso di laurea si prefigge di raggiungere il corso di laurea in ingegneria meccanica corso di laurea magistrale dell'università degli studi di cassino e del lazio meridionale si pone quale obiettivo quello di formare un ingegnere meccanico con una preparazione fortemente orientata alla progettazione meccanica all'automazione e produzione industriale e a quella che è la gestione dell'energia e dell'ambiente il percorso formativo prevede come vedremo anche dei curricula per l'approfondimento di quelle che sono tematiche specifiche che consentiranno al laureato magistrale di approfondire alcuni aspetti della sua formazione post lauream dottorato e master i settori tipici di attività di un tale corso di laurea sono la conversione di quella che è l'energia termica la progettazione e gestione delle apparecchiature e impianti che utilizzano per l'appunto l'energia termica la progettazione e controllo di processi produttivi e l'analisi della sicurezza e della qualità dei sistemi. E qual è il percorso formativo? Il percorso formativo prevede al primo anno delle materie ingegneristiche che sono comuni nel piano formativo e che permettono di arricchire il bagaglio di conoscenze del laureato in ingegneria industriale con quelle che sono le conoscenze di base dell'ingegneria meccanica. Successivamente potrà scegliere quello che è un curriculum cosiddetto energia e ambiente o un curriculum orientato alla progettazione meccanica. E quali sono le caratteristiche di questi due curriculum previsti? Il curriculum energia e ambiente è un curriculum dove per l'appunto le materie ingegneristiche curriculari erogate quindi al secondo anno sono orientate o al settore dell'energy management dove appunto vengono affrontati problemi connessi all'uso razionale ed ecocompatibile dell'energia dove vengono affrontati aspetti normativi e tariffari relativi per esempio alla valutazione tecnico-economica dei sistemi per l'uso razionale dell'energia e risparmio energetico vengono affrontati aspetti relativi alla sostenibilità ambientale, processi di combustione e di abbattimento delle missioni. Il secondo curriculum previsto è un curriculum di progettazione meccanica. In questo caso le materie ingegneristiche curriculari erogate al secondo anno sono orientate soprattutto al settore della progettazione meccanica dove vengono applicate conoscenze relative alle leghe ferrose e non dove vengono applicate le conoscenze relative ai meccanismi per esempio di danneggiamento questo per l'ideazione di strutture meccaniche complesse che vengono progettate anche attraverso l'impiego di tecniche numeriche sviluppate in ambiente MATLAB. Vengono inoltre studiati gli aspetti relativi relativi alla corrosione elettrochimica dei materiali metallici e vengono analizzate quelle che possono essere tecniche di cui può disporre l'ingegnere per contenerne gli effetti. Il corso di laurea in ingegneria industriale prevede un progetto alta formazione. Il progetto alta formazione è riservato solo a sei studenti ritenuti meritevoli da una commissione e costituisce un percorso di eccellenza. Ogni anno il corso di laurea in ingegneria industriale mette quindi a bando sei percorsi formativi individuali di tipo progettuale di 18 CFU ciascuno. Ogni percorso è della durata minima di sei mesi e durante questo tempo lo studente potrà svolgere attività di ricerca e quindi sviluppare un progetto di alta formazione presso la sede di un'azienda, di un ente o di un'università convenzionata con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. E dopo la laurea quali sono le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro? I dati forniti da Alma Laurea e relativi ai laureati dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale in Ingegneria Meccanica, laurea magistrale, sono molto confortanti. Secondo Alma Laurea a tre anni dalla laurea lavorano il 90% dei laureati mentre a cinque anni dalla laurea lavora il 100% dei nostri laureati. Per quanto riguarda la didattica, oltre ad essere erogata secondo quelle che sono le modalità tradizionali, è prevista anche una didattica cosiddetta innovativa. In particolare vengono utilizzati canali YouTube e iTunes con circa l'80% dei corsi integralmente video registrati e disponibili gratuitamente per i nostri studenti. Recentemente è stata raggiunta la cifra di 10.000 follower per i nostri corsi video registrati. Viene utilizzato anche un social Facebook e in particolare la pagina Facebook del corso di laurea in Ingegneria Industriale dove attraverso questo canale vengono fornite le informazioni in tempo reale utili per la vita all'interno del corso di studi e una serie di informazioni che riteniamo possano essere utili ai nostri studenti anche dopo. Infine è utilizzata una piattaforma, quella di Google Classroom, una piattaforma che consente e agevola l'interazione tra docente e studenti. La piattaforma Google Classroom utilizzata appunto da molti dei nostri docenti serve soprattutto anche e viene utilizzata per la diffusione di tutto quello che è il materiale didattico. Il corso di laurea in Ingegneria Meccanica prevede una mobilità nazionale e internazionale dei nostri studenti. In particolare per quanto riguarda l'Unione Europea il progetto Erasmus Plus prevede borse di studio per studenti che vogliono sostenere esami o svolgere attività di tesi presso l'università e presso istituti di ricerca europea. Inoltre sono previste borse di studio anche per tirocini svolti presso aziende, laboratori e imprese europee. È prevista anche la possibilità di muoversi e svolgere percorsi di studio o tesi di laurea presso università e paesi extra europei. In tal senso annualmente vengono pubblicati bandi e ci sono borse di studio specifiche che possono essere utilizzate dai nostri studenti per muoversi. Quali sono le strutture utilizzate e fruibili nell'ambito del corso di laurea? Le strutture ovviamente sono tutte quelle della sede di Cassino, in particolare la sede di Cassino di ingegneria, consta di due edifici di 20 aule e per un totale di 14.000 metri quadri coperti. I laboratori all'avanguardia sono 14 dove può essere svolta attività di ricerca e attività didattica. Inoltre è disponibile una camera anecoica, tre aule informatiche e un'aula CAD-CAM, una biblioteca e tre aule di studio. Se siete interessati allora al nostro corso di laurea magistrale in ingegneria meccanica potete per qualsiasi richiesta di chiarimento, spiegazione, contattare la segreteria didattica, la dottoressa Fiorillo, la dottoressa D'Amizio o la dottoressa Pietro Longo agli indirizzi di posta elettronica che leggete. Per qualsiasi altra spiegazione potete contattare anche il coordinatore del corso di studi di ingegneria industriale, il professor Domenico Falcone, sempre all'indirizzo di posta elettronica che leggete. Bene, grazie e ci auguriamo di potervi vedere presto. Grazie a tutti.